Ci troviamo a Xerbi, in una delle palazzine delle case popolari di Xerbi. Ci ha chiamato Rosalia Scalia, da sei giorni e senza acqua. Il problema dell'acqua, in questo caso, diventa un dramma perché, come potete notare, la signora Scalia soffre di diverse patologie. Innanzitutto, diciamo quali sono i suoi problemi fisici. Allora, a parte il fatto che non diambulo e si vede perché sono in garruzzina, ho paralisi vescicale, paralisi sfinderiale, soffro di idrosadinite supporativa. Tra l'altro, ho subito un intervento allo stomaco che mi comporta, purtroppo, di scariche di diarrea costantemente. Quindi, evidentemente, l'acqua mi serve o mi serve. Il mio disagio è molto, ma molto pesante perché già da sei giorni la situazione è diventata un po' troppo delicata. Lei prima diceva che non posso cambiare nemmeno le lenzuola a rischio di un'infezione perché non le posso lavare. Certo, come faccio? C'è il bagno pieno pieno di biancheria sporca, il mio indimo, i pigiami, la biancheria. Come si fa? Da sei giorni, sei giorni senza acqua sono sei giorni. Ho fatto presente questa situazione a tutti. Posso dire assistenti sociali, ufficio del sindaco, polizia, vigili urbani. La maggior parte mi hanno detto io non posso fare niente. Gli altri mi hanno detto le faremo sapere. Questo le faremo sapere sono passati tre giorni. Io vorrei sapere quanti giorni ancora servono loro per poter darmi l'acqua. Ma non solo a me. C'è tutto l'intero quartiere senza acqua. Io ho i miei disagi perché sono disabile, ma ci sono persone che hanno bambini piccoli. Quindi una mossa se la devono pur dare. Allora, ci sono dei punti da chiarire perché è giusto chiarire. Innanzitutto questa palazzina è senza ascensore. Siamo al terzo piano. Suo fratello che ha pure problemi di salute le ha salito i bidoni. Però tre piani con i bidoni viene difficile. Suo fratello è cardiopatico, mi diceva. Lei ha anche scritto nella pagina Facebook del sindaco. Il sindaco non le ha dato risposta. C'è da precisare che l'acqua è stata tagliata nel quartiere perché comunque siete abusivi. Però è 30 anni che vivete qua. Sì, e da 30 anni abbiamo sempre avuto l'acqua. È da sei giorni che quest'acqua non ci viene erogata. Io non capisco perché dopo 30 anni così la fantasia e tolgono l'acqua senza nemmeno un preavviso. Quando meno uno si poteva un pochettino organizzare alla meno peggio. Ma così togliere l'acqua... Non si sa tra l'altro quest'acqua, dato che siete tutti abusivi, se la pagava la ferrovia oppure no. Ma evidentemente non lo so perché io ho parlato pure con la ferrovia qua della stazione di Sirbi. Mi è stato detto signora noi da due anni che siamo a sé, siamo con l'autobot e anche noi. Quindi ora io non so se questo debito c'era la ferrovia, se è stata una presa in giro, se fanno con la verità. Io questo non lo so. Io so semplicemente che io aspetto risposta e ho bisogno dell'acqua immediatamente. Lei prima mi diceva, so che sono abusiva, io però a questo punto datemi una casa e sono disposta a pagare. Sì, non è la prima volta che io espongo i miei problemi agli assistenti sociali. Loro sanno pure la mia situazione perché sono pur venuti qua. Sanno che abito al Trezzopiano, sanno che sono senza scensore, sanno che sono disabile. Ho chiesto aiuto in tutti i tipi, in tutte le forme e sempre nessuna risposta. Ora loro, se mi danno la possibilità di poter avere un appartamento e mettermi in regola di casa, di luce, di acqua, se poi io non pago, e allora dici sì, noi te la tagliamo l'acqua, ti tagliamo la luce, ti tagliamo quello che è. Ma ora come ora, io non ho mai ricevuto una bolletta da parte di nessuno perché mi hanno tolto l'acqua dopo 30 anni, no tre giorni, 30 anni che io soffrisco di quest'acqua senza mai pagare niente, senza mai aver avuto una richiesta da parte di nessun'ende. Perché se le arrivava la bolletta lei l'avrebbe pagata. È normale, l'acqua serve a tutti, credo. È normale. Un'altra domanda che le potrebbero fare, perché non acquistare un autobot? L'autobot io la potrei acquistare perché non credo che sia una cifra così. Il problema è fare l'impianto idrico che mi porti poi l'acqua a casa perché ci vuole la vasca fuori, ci vuole il motorino, ci vogliono i tubi, ci vuole l'idraulico che ti fa tutto l'impianto e non è che ci vuole una lira. Io mi sono informata, all'incirca ci vogliono sui mille euro. Io una pensionata sono, da dove li vado a prendersi i soldi? Quindi o il comune, il signor sindaco e chi per lui si degna di darmi una mano d'aiuto, o me lo fanno loro sul lavoro, o mi fanno mettere di nuovo l'acqua, o mi danno una casa. Irregola. Ma una soluzione si deve trovare e io entro oggi, ho bisogno dell'acqua. Lei, entro oggi, ha bisogno dell'acqua ed è necessario avere l'acqua. Lei prima mi diceva, sono una semplice pensionata, tra l'altro la sua pensione le serve per mangiare, ma anche per le varie medicine, tutto quello che le serve, che lei acquista tutto, non le hanno dato nemmeno, lei aveva chiesto anche una badande. Sì, avevo chiesto una badande e non ci rientro perché non ho un'età superiore o non so a che età si deve arrivare. Tutte scuse che trovano loro, poi perché non ho la 104, poi perché tutte le scuse le trovano loro. Non mi ricordo più la domanda, mi scusi. Che lei con la pensione... Ma sì, io pago pure la farmacia, perché devo acquistare garze, acqua visiologica, compresse, medicine che sono a base cortisoniche, sono tutte a pagamento, gocce di Levopride, gocce di Lexotan. Non è che ne prendo una medicina. Io se non ci credete potete andare anche alla farmacia, ma Rocco, io mi servo da lui, che mi fa credito. E ogni mese quando prendo la pensione pago quello che devo pagare. E non c'è meno di 150-200 euro ogni mese. Il comune lo sa questo. Ho sempre fatto presente queste situazioni. E si fanno sordi. Ho bisogno di una badande. E si fanno sordi. Ho bisogno di un'aiuto a casa per le pulizie. Non ci rientro perché per la fascia d'età bisogna avere... Non so a che età si deve arrivare. Ma insomma... Lei quanti anni ha? Io ho 40, fatti da poco. E' disabile da 13 anni. No, va quando ne avevo 13, da 13 anni che sono disabile. E quindi? Quindi, l'appello della signora Scalia è quello di avere l'acqua o comunque un appartamento adeguato. Anche perché essendo al terzo piano, senza ascensore, anche se vuole uscire da casa, è un problema farla salire e scendere. Questo è un caso che merita quantomeno una risposta da parte del sindaco, dell'assistente sociale o dell'assessore alle politiche sociali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.